L'Azzurra Nuoto è stata grande protagonista allo stadio del Nuoto di Riccione dove si è svolta la Criteria Giovanili di Nuoto 2022. Risultato storico per l'Azzurra Nuoto Prato che nella classifica di società della categoria ragazze si è piazzata al settimo posto in Italia ed è giunta prima assoluta delle formazioni toscane. Grande protagonista della manifestazione Lucrezia Domina che ha conquistato un argento nei 200 stile libero ragazze 2008 con un crono di assoluto livello 2 minuti, 2 secondi e 49 centesimi e il bronzo nei 100 farfalla. La talentuosa atleta pratese inoltre ha chiuso ad un passo dal podio tassificandosi quarta nei 400 stile libero e negli 800 stile libero e infine quinta nei 100 confermandosi come uno dei migliori prospetti a livello nazionale in questa specialità. Con primaria di eccellenza è stata Ginevra Scali che nella sua prima esperienza in contesti così importanti ha sbriciolato il proprio personale scalando la classifica dove si è fermata ad un soffio dal podio chiudendo quarta nei 200 farfalla e riconfermandosi poi nella mezza distanza che la vede piazzarsi buona settima. Di livello anche le prove di altre due matricole pratesi Gaia Buffini 23esma dei 200 dorso e Vittoria Bottazzi 26esma dei 200 farfalla. Ottimi riscontri anche per le atlete più grandi. Emma Randellini conferma l'ottimo momento di forma ottenendo negli 800 stile liberi cadetti la 14esma posizione e nella mezza distanza dove si è classificata 21esma. Carlotta Santi invece ha chiuso al 18esmo posto nei 400 stile libero e 17esma negli 800 mentre Alice Mencherini nei 400 misti si è fermata al 23esmo posto. Insomma a Riccione l'Azzurra Nuoto Prato ha vissuto tre giorni da vera protagonista.